In casa Giorgiotesi Gruppe proseguono gli allenamenti per preparare al meglio la seconda trasferta consecutiva, quella di Cremona, in programma domenica prossima. A proposito ci sarà la diretta su TVL. Ci sono dei problemi in squadra, problemi a livello fisico. Daniele Cinciarini si sta rimettendo da una brutta influenza, è comunque tornato in gruppo. Sono un po' acciaccati ma si stanno allenando regolarmente Milburn e Brown, mentre Daniele Magro che ha ricevuto la settimana scorsa e per quello non era andato in Sardegna, un colpo ad un occhio con ben sette punti di sutura. Oggi si è fatto visitare, può riprendere ad allenarsi con la squadra ma lo farà lentamente e vedremo se per domenica ci sarà la possibilità di schierarlo. Una partita difficile contro la squadra di coach Cesare Pancotto che tra l'altro è redusce dalla bella quanto sfortunata prestazione di lunedì sera nel posticipo contro Reggio Emilia. Tre partite, le prossime tre, in conferenza stampa ti hai detto un momento chiave del campionato per capire quale sarà il futuro della Giorgiotesi Gruppe. Sì, sono tutte importanti le partite, però questo trittico di partite in particolare dopo la metà della prima parte del campionato può dire tanto, anche perché sono squadre molto abbordabili, non saranno partite facili, non dico questo ma sono partite più abbordabili di altre, ad esempio di Sassari e bisogna arrivarci preparati, ben allenati, concentrati perché può consolidarci ad alti livelli. Dopo il restarsi sarà un altro obiettivo, però penso che bisogna prendere una partita alla volta. Cremona si è giocata fino alla fine una grande partita contro Reggio Emilia, perdendo solo la foto finish, quindi la dice lunga sul quanto la squadra sia comunque molto ben preparata e ben allenata. Comunque sta disputando un'ottima stagione insieme a Trento e la rivelazione del campionato, dunque dovremmo arrivarci molto pronti. Allora come si fa a batterle? Semplicemente essere noi stessi, mi vengono in mente le immagini di noi contro Capodorlando, in cui tutti hanno dato qualcosa, la nostra squadra è proprio questo, non avere stelle ma dare tutto noi stessi, ognuno il proprio mattone e costruire le vittorie in questo modo. L'abbiamo fatto con Capodorlando, l'abbiamo fatto in altre occasioni e penso perché no farlo pur a Cremona. Grazie.